Ciao, oggi vi voglio parlare di questa terra della Essess, questa è della linea Sun Club ed effettivamente l'ho finita, quindi vi faccio vedere lo swatch Grazie per la visione! Allora, cosa posso dire? Intanto che la quantità è un 10 grammi ed è riuscita come edizione limitata quindi io ho quella quadrata perché è un'edizione limitata però poi dopo le hanno riprodotte nella collezione permanente non quadrata ma tonda e comunque non cambia niente in pratica si tratta di una polvere compatta che ha due colori al suo interno come avete visto, quindi quello più scuro e quello più chiaro che miscelate assieme dovrebbero fare un colore perfetto come terra come bronzing, come terra oppure anche per il couturing io trovo che non mi piace, non mi piace perché è molto glitterosa e come terra non va a bene, almeno a me non piace avere sul viso delle cose con i glitter sinceramente non è la mia idea però invece per il contouring, dato che adesso è di moda questo contouring è valida perché la terra ha la parte opaca e quindi ok perfetta per scolpire mentre la parte più chiara come illuminante leggero leggero con i brillantini perché la parte chiara alla fine non si vede sulla pelle ma restano solo questi brillantini quindi perfetta come illuminante o anche all'interno dell'occhio ed è come un ombretto, perfetta quindi cosa posso dirvi? come per il suo uso che fa, quindi come terra, non mi piace come bronzer non mi piace assolutamente mentre come palettina due in uno per il contouring potrebbe andare bene a chi amante di questi il contouring non è un'attività ed è una tecnica oltretutto anche abbastanza professionale quindi chi ama la tecnica del contouring questa potrebbe essere una buona alternativa a tutti quei prodotti che ultimamente si trovano in giro che anche hanno dei prezzi abbastanza elevati quindi direi di farci un occhio un attimino perché il prezzo dell'essence è abbordabile fatemi sapere se avete provato questo prodotto e come siete trovate io come sempre spostate utile se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale così non perderete la prossima recensione beauty di prodotti low cost alla prossima ciao ciao ciao